Un cordiale saluto e un augurio di buon Natale a tutti. Natale è nascita del bambino Gesù e quando parliamo di bambino parliamo di una vita nuova che prende inizio. Come sempre anche quella di Gesù è vita che ha una storia, una storia di amore, quella di Dio. Questo bimbo è voluto da Dio per amore, è frutto di amore. È amore di Dio per la nostra storia di uomini e donne, per la gioia della nostra vita perché è venuto per servire la nostra gioia. È venuto per noi, è amore per noi quello dichiarato da Gesù. La migliore descrizione del Natale con un linguaggio più adatto a noi è contenuto in una lettera di San Paolo, quella alla comunità dei cristiani di Filippi, al capitolo secondo. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, divenendo simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo esaltò. Il Natale, in effetti, secondo questo bellissimo brano, è un inno, ci parla di uno stile dell'amore di Dio. Con questo stile, non con potenza, non con orgoglio, Dio ci parla di sé. È stile di abbassamento, di umiltà, di servizio. Il Natale è esperienza quotidiana di chi ama, donando se stesso, abbassandosi. I sentimenti di Gesù, il suo sentire, il suo sguardo, rivolti agli uomini di tutti i tempi, ma soprattutto quelli che Lui ha incontrato, sono oggi ripetuti anche nelle nostre case. Quando mamma, papà, nonni, per amore servono, vivono silenzi, accettano sfide. Sono vissuti nelle nostre comunità cristiane, quando si perdona, quando si ricomincia, quando si restituisce fiducia. Sono vissuti anche nelle nostre città, quando si osano incontri, si osano progetti, si osano sguardi alti per la convivenza comune. In questo anno il Natale è anche evento per conoscere la misericordia di Dio. È uno dei tratti del mistero dell'incarnazione di Dio, quello della misericordia, e ci è manifestato proprio in Gesù. Gesù ne ha parlato, ricordiamo la parabola del padre misericordioso, del figlio al prodigo, della pecorella smarrita, che vogliono manifestare l'attenzione di Dio nei confronti di tutti quelli che si sono persi. Gesù l'ha vissuta andando presso gli ultimi, i peccatori, le prostitute, i pubblicani. È misericordia e amore di Dio offerto ad ogni cristiano innanzitutto, perché anche i cristiani, anche le nostre comunità, la nostra Chiesa, vivono della misericordia di Dio. Noi ci proponiamo ricchi di Dio e del suo Vangelo, non di noi stessi. Ma questa esperienza ci manda, oltre la nostra Chiesa, oltre la nostra esperienza comunitaria, a donare misericordia, ad annunciare a tutti la misericordia di Dio. Per questo dobbiamo uscire e farci carico di chi ha sofferto, di chi è disperato, di chi è sconfitto. riceviamo misericordia per dare misericordia. Forse potremmo dire che cresciamo nell'esperienza della misericordia di Dio proprio nella misura in cui sappiamo offrirla, nella misura in cui sappiamo parlarne, sappiamo frequentarla. La misericordia, poi, ha nomi che ci parlano di Dio, ma che sono e restano anche sogni per il nostro tempo e per il nostro vivere. La misericordia è verità, misericordia è giustizia, misericordia è pace. Auguro allora a tutti di camminare sulla strada di Gesù. La celebrazione della sua nascita sia per tutti disponibilità a mettersi in movimento, a immaginare che il proprio Stato sia da superare, da migliorare, mettendoci in cammino per diventare sempre più capaci tutti noi, come singoli cristiani, come famiglie di credenti, come comunità cristiane e anche come uomini, capaci di misericordia, di giustizia, di verità, di pace. Questo è il Natale del Signore. Buon Natale.